L'archivio dell'ispettore di Falco di Fabio Fabiano. Legge Alberto Caneva. Lupupu tuziutanu. Era ormai stanco e avvicinandosi l'orario di pranzo pensò di mollare tutto per andare a prendere un panino o qualcosa di simile da mettere sotto i denti. Si alzò dalla sedia e si diresse verso l'appendiabito per prendere il giaccone quando inavvertitamente si scontrò con Pisano che aveva in mano un fascicolo che aveva ritirato da poco dall'archivio. Quello scontro determinò la caduta del fascicolo a terra dove alcuni documenti si disseminarono per il pavimento. Pisano imbarazzato si giustificò. Si tratta del fascicolo che mi avevi chiesto in merito al tizio che mantiene la passa l'acqua. Di Falco si inchinò per aiutare il collega a raccogliere i fogli per ricomporre il fascicolo e fu in quell'istante che sulla copertina rossa lesse Giuseppe Sciarra di Gaetano. C'era il timbro con la dicitura mafioso e una serie di date e numeri di protocollo. Quella scritta per il poliziotto fu illuminante. Si alzò di scatto, prese il cellulare e telefonò al suo amico Calogero Castro, uno storico della mafia che l'ispettore aveva aiutato spesso nel reperimento di antichi documenti. Senti, Gaetano Sciarra di Faro, che ti dice? Mafioso del dopoguerra, ma vediamoci in biblioteca così se avessi necessità di consultare qualche pubblicazione lo posso fare tranquillamente. Ok, tra mezz'ora alla biblioteca comunale. Io ancora non ho mangiato e ne approfitto per un panino. Che faccio? Penso pure per te? Saporita idea, imbottiscilo a tuo gusto. I due si incontrarono come previsto dinanzi un edificio vecchio ma da poco restaurato che era la biblioteca comunale ed essendoci delle panchine si sedettero su una di esse all'ombra di un salice. Scartarono i loro panini con sgombro condito con sale, limone, pezzetti di pomodoro, origano e un pezzico di pepe nero e cominciarono a mangiare con molto piacere. Minchia! Eccellente! Esclamò lo storico tra un morso e l'altro. Qui c'è la tua gazzosa! Replicò il poliziotto soddisfatto di avere allietato il palato dell'amico. In merito a Gaetano Sciarra, posso affermare che è stato un importante mafioso prima del regime fascista in Italia ma nel 1925 durante la repressione contro la mafia dal prefetto Mori fu arrestato e poi confinato. Tornò in Sicilia dopo lo sbarco degli alleati nel 1943 ed essendo stato confinato dal regime fu scambiato dagli alleati come un antifascista e fu da loro proposto come sindaco di Faro. In realtà era solo un delinquente che i fascisti avevano mandato al confino. Fu il primo cittadino di quel paese per circa un decennio e oltre a diventare importante uomo politico grebbe all'interno delle file di Cosa Nostra tanto da essere eletto rappresentante provinciale negli anni 50. Fu tratto in arresto negli anni 60 ma dopo un breve periodo di carcerazione fu liberato. Tutti in paese lo conoscevano come lo ziotano e restò una persona intisa fino alla morte. Il figlio Giuseppe vive dei frutti della ricchezza accumulata dal padre e del mito di quest'ultimo ma a detta dei suoi stessi affiliati è un chiacchierone inconcludente e vanaglorioso. Passa il tempo dietro a prostitute ed è uno che si allarga a parlare vantandosi di imprese mai compiute sia erotiche che mafiose. È stato arrestato circa sei anni fa nell'operazione alba nuova. Non so se ti ricordi deve aver scontato tre anni e adesso è libero e gestisce un nuovo impianto di calcestruzzo considerato che il primo glielo hanno confiscato. Grazie per il quadretto. Adesso ti faccio una domanda un tantino più difficile. Cosa può essere lupupu duzzitano? Ne ho sentito parlare ma non ricordo bene dovrebbe essere una statua o qualcosa del genere. Finiamo di mangiare e andiamo in biblioteca sicuramente troveremo dati più certi. I due entrarono in biblioteca salutarono gli addetti e Calogero Castro si immerse immediatamente nella lettura di raccolte storiche di quotidiani registri e libri. Di Falco ne approfittò per dare un'occhiata alle ultime pubblicazioni e con grande rammarico si accorse che la maggior parte dei gialli pubblicati dagli editori italiani erano di autori stranieri. Non passò molto tempo e lo storico gli mostrò una serie di copie di vecchi quotidiani che parlavano del famoso Pupo duzzitano. Si tratta di una vecchia copia del giornale di Sicilia del 1925 e in una pagina c'era la foto di un soddisfatto prefetto Mori con la famosa statua dell'Efebo. La retorica fascista condiva il tutto. Ennesima impresa del prefetto di ferro contro la mafia. Mori, a capo di un contingente di reali carabinieri a cavallo, circondava il paese di Faro, dove traeva in arresto una ventina di mafiosi. Nell'abitazione di uno di questi, ed esattamente in quella del noto mafioso Gaetano Sciarra, rinveniva la famosa statua dell'Efebo. L'importante reperto archeologico, che si fa risalire al periodo della colonizzazione greca in Sicilia, utilizzato a casa del malfattore come semplice cappelliera, veniva consegnato al direttore del museo civico per essere esposto nella opportuna sede. Ancora una volta si è dimostrato come il disegno politico del duce di liberare la terra di Sicilia da briganti, mafiosi e malandrini sia ormai una questione di grande interesse nazionale. L'articolo continua con le fasi della cattura, ma suppongo che non sia di tuo interesse. Ma sembra che da quella data la statua divende celebre in paese come l'Upubu Duzzitano. Anche perché sembra che il mafioso abbia intentato una causa negli anni cinquanta per essere risarcito, aggiunse Gero Castro. Molto bene, adesso è chiaro il movente del furto. Sicuramente Giuseppe Sciarra ha pensato di riappropriarsi della statua che lui è convinto appartenesse al padre, una circostanza in linea con il personaggio. Chiaramente a occuparsi del furto è stata la passalacqua per conto dell'amante, quindi si spiega la custodia dentro la casa della statua nella cripta e l'antico utilizzo della stessa come cappelliera, sostenne Di Falco. Il poliziotto, compreso il movente, pensò che era necessario raccogliere le prove contro Giuseppe Sciarra e si convince che l'unica che poteva testimoniare contro di lui era la passalacqua. Tornò in commissariato e si mise a riflettere sul modo di convincere Pipina alla Tunisina a infamare lo Sciarra.